Ciao e ben ritrovati! Dopo una bella giornata passata alla spiaggia del Duoglio, è ora di raggiungere la nostra prossima destinazione. Infatti sono le 16 e l'ombra comincia a scendere sulla spiaggia. Hi and welcome back! After a beautiful day at the Duoglio Beach, it's time to reach our next destination. It's 4 pm and the shadow begins to arrive on the beach. Come abbiamo visto in un altro video, siamo arrivati a questa spiaggia in Pullman e poi siamo scesi per la scala che collega la strada alla spiaggia del Duoglio. As we saw in another video, we arrived at this beach by bus and then we went down the staircase that connects the road to the Duoglio Beach. In ritorno optiamo invece per la barca. In questo modo evitiamo tutti i gradini in salita ed abbiamo il piacere di ammirare questa magnifica spiaggia ed Amalfi dal mare. For the return we opt for the boat instead. In this way we arrived all the happy old steps and we have the pleasure of admiring this magnificent beach beach and Amalfi from the sea. Nel nostro caso utilizziamo il servizio del Lido degli Artisti, ma in alternativa è possibile utilizzare anche il servizio del Gruppo Battaglieri Amalfi. In un altro video. Godiamoci ora il bel panorama. Let's enjoy the beautiful view now. Lo so. 2 3 5 5 2 5 6 6 6 8 9 9 10 10 10 Grazie a tutti. Ecco Amalfi. Here is Amalfi. Vuoi vedere il resto della navigazione ed Amalfi più da vicino? Guarda il video qui suggerito che trovi anche nella descrizione e nei commenti. Do you want to see the rest of the navigation and Amalfi more closely? Watch a suggested video here that you also find in the description and comments.